Sono parlo alla fiera McSperger Per favore di rifacioni costanti è un stick of the key superfone con elettronica che ha il 4D perché ha esattamente finitura Grazie. 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 준�yotor��. Grazie. Tutti i grassaggi della mostra. Ok. Scusate, siamo inspezione visiva? Sì, sì. Scusate, controlli con 4 o 5 delle canne. E usi anche dei reti neurali? No. Quello non lo copro. Allora gli interi neurali. Ma in Italia ci diceva qualcuno che lo fa. Stava più fino. Grazie. 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 Grazie.